47, 10 maggio, Napoli campione d'Italia bianchi, Napoli campione d'Italia Sono soddisfatto, abbiamo fatto un buon lavoro, sono due anni che facciamo dei sacrifici e sono soddisfatto Eri, non eri nella pelle, guarda, abbracciati i giocatori, guardate l'orologio Ho visto gli generatori vincere gli scodetti, ma tu non hai saputo nascondere anche adesso E' vero, è 60 anni che qua non si vince, pertanto devi immaginare la pressione a cui siamo stati sottoposti per tutti questi due anni Hai mai pensato di perdere questo scudetto alla fine delle ultime giornate? Eh sì, perché tu sai l'insidia per chi gioca al calcio, oggi sono sicuro Senti, quando hai capito di aver vinto lo scudetto con questa squadra, una squadra che non è stata per nulla data come favorita all'inizio? Penso dopo la vittoria di Bergamo Lì hai capito che avevi il titolo in mano? Sì